Passaggio di testimone alla segreteria regionale del Partito Democratico d'Abruzzo. Era stato Silvio Paolucci, oggi assessore regionale, a ricoprire l'incarico dal 2009 fino ad oggi. Ed oggi si preparano i candidati pronti a succederlo alle elezioni del 1 marzo. A presentarsi pubblicamente alla stampa c'è Andrea Catena, 40 anni, originario di Chieti, attuale coordinatore della segreteria regionale, ex vice sindaco di Chieti, segretario regionale, dirigente nazionale della sinistra giovanile ai tempi di Veltroni. Mi candido per dare continuità al processo di rinnovamento che è stato avviato in questi anni nel PD in Abruzzo per costruire una nuova classe dirigente e per portare il mio contributo di esperienza nella costruzione di un partito più grande e più aperto in Abruzzo. Tra le caratteristiche che tiene a sottolineare Catena, il percorso di rinascita del Partito Democratico. Dopo le regionali del 14 dicembre 2008, il consenso era arrivato al minimo storico del 19%, poi gli arresti di molti componenti della Giunta del Turco e la decapitazione del gruppo dirigente regionale che creò una vera e propria frattura fra il partito e la larga parte dell'elettorato e poi la ripresa, una crescita continua del consenso fino alla vittoria elettorale dello scorso maggio. Il lato forte di questa candidatura è il fatto che le mie caratteristiche di esperienza e di equilibrio insieme con il fatto di essere componente di una nuova generazione mi dà la possibilità di unire quelli che sono i gruppi dirigenti nuovi, i gruppi dirigenti tradizionali di questo partito. Quindi la mia è una candidatura per unire. Non vedo particolare difficoltà se non il fatto che nei prossimi giorni, attraverso una discussione democratica nei circoli e nel gruppo dirigente si deve lavorare, credo, per rendere più unito e più forte il partito.